Questo è un test su un catodo, ma sapete a cosa serve? Il catodo è l'elemento che emette gli elettroni per il tubo a raggi X. La sua temperatura e la sua alimentazione sono fondamentali per ottenere la giusta quantità di radiazioni e noi li testiamo e li caratterizziamo qui in questo modo. Misuriamo il rapporto fra la corrente e la temperatura del catodo per essere sicuri che possa emettere la giusta quantità di elettroni per effetto termoionico. Gli elettroni prodotti servono a produrre i raggi X che poi utilizziamo nei controlli non distruttivi e nei controlli bagagli. Se ne volete sapere di più, seguite il nostro canale.